Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui, la seconda obbliga per i bambini, quindi cominciamo la mattina, con me c'è mia cucinetta, però non vuole vedersi perché è un po' timida e attività divertenti, quando finisce Sofia perché vuole giocare pure lei sul... vuoi giocare qua? no? vado solo? ok creiamo... creiamo il mio personaggio ok il mio colore il mio capelli? il mio stile cos'era? questa qua? sono brutta, i bambini sono brutta, ah non voglio ballare no, me lascio così perché è carina questa ok mi sta facendo con fame la mia cucinetta ok ora il stile la mia cucinetta è una cucinetta ora vediamo le stile del cappello nessuno ecco qui spostiamo la camera ora creiamo la mia cuginetta ma che cosa ti ho fatto? si è vendata un mostro ora cambiamo il tuo colore cosa c'è? che stai facendo? vuole cambiare il suo colore della pelle che sto facendo? non può cambiare Sofì ah ora si qual è la tua pelle? ah tu vuoi creare? ok vuole crearsi lei dai lo so che oggi il colore Sofì è quello della pelle come camma camma vuole vintare le voce Orecchina. tranquillo no non ti metto neanche la signora da unicolo a te sì mi chiamato team ti dico io scatto io ma a te no la corona no vabbè ok quindi ora cominciamo andiamo a casa bene ragazzi noi creiamo la casa poi quando abbiamo finito andiamo al tour vento con te qui puoi acquistare tantissime cose incredibili come nuovi mobili personaggi e anche animaletti gratis è uscito il gatto no 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 bene raga giusto un po la casa e poi cominciamo a fare il tour mentre con te ecco qui siamo qui abbiamo finito il bagno la cucina ecco noi cucina e qua sono qua la nostra camera e nostro studio ecco qui io e qui quindi ecco questa la gatta è mia questa carta mia e questa è di mia cuginetta per non farvi faremo un altro video perché dobbiamo fare tour con Sofì e lui e ci vediamo ciao